Il commissario straordinario del comune di Teramo è nell'occhio del ciclone in questi giorni per le decisioni che sta prendendo in merito all'impiantistica sportiva, in particolare per quanto riguarda il palazzetto dello sport di Scapriano. Lo chiude o non lo chiude? No, non si chiude niente. Questa è un'interpretazione non so di chi assolutamente errata di alcune mie parole pronunciate in occasione di un'intervista televisiva. In realtà mi si chiedeva di citare alcune fonti di spesa particolarmente significative e siccome ne avevamo già parlato anche con i revisori dei conti per fare un panorama di questo tipo, ho citato anche il palazzo delle spese che comporta il palazzetto dello sport. Come intende muoversi dunque per ridurre quelle spese? Ah, non ho ancora preso nessuna decisione in questo senso, però vi posso dire che in altre città il palazzetto dello sport non è a carico del comune. Eccellenza, possiamo tracciare un primo bilancio della sua esperienza e della sua attività alla guida del comune di Teramo? Oramai è qui da qualche settimana. Si è sentito ben accettato? Ha trovato una realtà particolare? Lei questa esperienza, come ci ricordava, l'ha vissuta anche in altri comuni di Teramo e gli altri comuni dove lei è stato amministratore straordinario? No, vabbè, differenze particolari no. Certamente qui ho notato un clima di grande preoccupazione, anche un certo malessere probabilmente dovuto agli eventi calamitosi che hanno colpito questo territorio negli ultimi tempi, anche se ho registrato un po' un eccessivo timore delle decisioni del commissario che onestamente non mi spiego, in quanto il commissario non è qui per castigare nessuno, né per punire nessuno, né per penalizzare. Se avessi trovato una situazione finanziaria migliore, probabilmente certe decisioni non sarei stato costretto ad assumerle. Altro fronte dove lei sta operando è il recupero crediti? Eh sì, perché l'anticipazione di cassa piuttosto consistente di questo comune è determinata soprattutto dalla mancata riscossione di crediti da parte di alcuni enti. Proprio giorni fa ne parlavo con il presidente Luciano D'Alfonso, che ci sono anche crediti da riscuotere dovuti dalla Regione, ma anche da altri enti. Quindi il mio sforzo sarà non solo nel fronte della riduzione della spesa o dell'incremento di qualche fonte di entrata, ma anche soprattutto nel tentare di recuperare, certamente non tutto, ma una parte del credito consistente che il comune ha nei confronti di vari enti.